Abbiamo però anche Kauschka Photography che realizza bellissime foto, hai già lavorato con lui? Sì, sto continuando a lavorare con lui, mi sono trovato molto bene, è un fotografo molto professionale, una bellissima persona anche per quanto riguarda il di là delle foto, ti fa sentire molto a tuo agio, fa degli belli scatti, belle location, mi sono trovato molto bene con lui. Quindi signore e signori, futuri sposi, Kauschka Photography. Kauschka Photography.